Sono vie d'acqua importanti per il cicloturismo che porta un sacco di gente in tutta Europa e già si comincia anche in Italia, quindi è importante promuovere bene queste vie d'acqua nel nostro territorio. Una pedalata lungo il castro e il bicchieraia per scoprire insieme le vie dell'acqua cittadine. Ad Arezzo così, giocando d'anticipo, si è celebrata la giornata mondiale dell'acqua con una ciclopedalata che ha registrato decine di partecipanti. È meglio occasione vedere quale sono sia l'importanza per l'approvviginamento che per la difesa le acque aretine. Le acque aretine sono costituite da due torrenti, il castro e il bicchieraia, che poi confluiscono insieme e si chiama castro e entrano nella città. È la zona da cui storicamente dagli etruschi, dai romani, viene l'acqua per Arezzo, la zona dei mulinelli e così via. È nello stesso tempo la zona più a rischio, cioè quella che può produrre più rischio alla città stessa, perché è quella che attraverso due torrenti potrebbe creare delle grosse inondazioni come è avvenuto negli anni 30 del 900 e alla fine dell'Ottocento. Il consorzio di Bonifica 2 Alto Val d'Arno si è già fatto promotore del contratto di fiume a braccio d'Arno. Se voi guardate questi corsi d'acqua, che una decina di anni fa, quando abbiamo iniziato a fare gli interventi protettivi, erano delle vere e proprio discariche, il fatto che siano mantenuti sta portando alla pulizia di questi fiumi. Oggi difficilmente, solo in alcuni casi particolari, ma molto particolari, troviamo il fiume come discarica. E questo è un beneficio per tutti.